Buon sabato 4 luglio. Se ci capita di camminare nella notte oscura possiamo trovare la forza e la lungimiranza di non temere alcun male se sapremo aprire i nostri occhi, il nostro udito, i nostri sensi, il nostro cuore a colui che ci salva, alla speranza che intrinseca la condizione dell'amore. Se cammineremo nella notte oscura non temeremo alcun male perché la nostra vita è abitata dalla fiducia nel pastore, nel Signore per il credente naturalmente e per colui che non crede vi è sempre l'opportunità di incontrare la luce della speranza anche nelle condizioni più oscure e drammatiche dell'esistenza. Se il nostro modo di vivere sarà caratterizzato dalla certezza che comunque la luce dell'amore e della speranza continuerà a illuminare il nostro cammino anche nella notte più oscura e perigliosa allora la nostra vita si libererà da qualsiasi forma di aggressività e di rabbia che rendono la notte ancora più oscura. Buona giornata a tutti.